E quando l'amore c'è, la gamba la tira al pei, diceva il mitico Gaudio Catellani, buongiorno all'amore, guai se non ci fosse l'amore, ma non l'amore malato che a volte si vede nei telegiornali, assolutamente no, buongiorno e benvenuti a una bella puntata di Niman Show Live, questa mattina sono tutto, ma tutto vostro ragazzi, perché non ho collegamenti esterni, sono solo per voi, dediche richieste a go go, andate con i messaggi, intanto benvenuti sulla pagina Facebook Niman Radio TV, benvenuti sulle radio che ci trasmettono, un saluto particolare alla regia di Radio Nova, l'amico Fabio Bramini, buongiorno caro Fabio e andiamo avanti con questa bella puntata, ho un po' di curiosità da farvi vedere, curiosità che insomma fanno rimanere a bocca aperta, però continuiamo con la musica e arriva un mitico Ruggero Scandiuzzi con Acqua di Lago, oh che bella questa qua, andiamo, 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 vamos, buongiorno a tutti e benvenuti, 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 welcome, benvenuti, se ne vai lontano, belle canzoni che canteremo nelle serate ragazzi, perché tra poco tutto si riaprirà, anche stamattina vedevo un po' i telegiornali, tutti molto ottimisti, la pandemia ci sta lasciando, speriamo, speriamo, ne abbiamo veramente tanto bisogno, ma una sorpresa oggi che io voglio svelare è questa ragazzi, perché vedete qua, vedete qua la lista, la fila di tutti i nostri cd e proprio qui ne manca uno, ma è arrivato, è arrivato il cd del nostro Maio, ballando con Maio, un cd di fisarmonica che vede comunque poi all'interno due canzoni mie del mio precedente cd, Mambo Strambo e quel motivetto che è poi la sigla del Nima Show, perché comunque era stata scritta in collaborazione con l'amico Maio, guardate, guardate com'è bello, guardate come è bello, comunque nei prossimi giorni ci adopereremo per registrare qualche video e ovviamente faremo una presentazione ufficiale, guardate un po', andiamo ad aggiungere un altro cd alla nostra collezione in prima fila, eccolo qua, con i miei e quello di Monica, mi fa molto piacere, un saluto al caro amico Maio che vedo già collegato e non resistevo, porta pazienza Maio, io non è che potevo aspettare quando hai tempo tuo a venire in tradizione, trasmissione, io l'ho messo fuori, comunque chi è interessato mi mandi un messaggio al 393-8489-561 e poi noi ve lo spediremo a casa, guardate un po', vi dico qualche titolo dai, giusto per curiosità insomma, perché ci sono brani inediti scritti comunque dall'amico Maio in collaborazione con me e con Marco Tonelli, ma ci sono anche brani famosissimi tipo la danza del sole e poi abbiamo l'ultimo dei Moicani e come altra cumbia è stata inserita oasi dell'amico Andrea Bonifazi, poi abbiamo tanto liscio perché ha voluto accontentare un po' tutti il nostro Maio, tant'è che il cd si intitola Ballando con Maio, ok? Andiamo con il waltzer Daniel, dedicatissimo a suo figlio Daniel e poi la mazzurca Patrizia, dedicatissima a sua moglie Patrizia, ha fatto la differenza tra un waltzer e una mazzurca perché la Patrizia va un po' più lenta, va più lenta come la mazzurca, avete capito? Invece a me è dedicato la polca del grillo, la polca del grillo, poi c'è un altro waltzer fantastico, La Felicità e poi un bel tango di Patacini Argentinita e Tiruli Tirulià, un'altra polca scritta dal nostro Maio, andiamo col waltzer francese Notte a Parigi, un bel tango, la violetta, insomma di tutto, di più. A breve faremo una bella presentazione ufficiale con il nostro Maio che ve le suona, non dico che ve la canta, ve la suona perché alla fine è soltanto suonato, però durante le serate c'è sempre richiesto, oltre i nostri CD cantati, avete un CD di fisarmonica, finalmente è arrivato, dopo quasi 50 anni di attività nel nostro Maio è riuscito a fare un CD e poi all'interno ci sono delle belle fotografie perché comunque ha voluto dedicare anche il tutto, ai suoi genitori, ma lo vedremo poi nella presentazione ufficiale. Maio, bravo, ti dedico questa canzone, La Timba Nera, un po' movimentata. Olè, cari amici, questa era La Timba Nera, tra l'altro c'era Renzo Tommassini e anche in collaborazione con Simona 40, andiamo a salutare un po' di amici che vedo stamattina collegati ma in pochi favellano, mandate messaggi ragazzi perché oggi voglio accontentarvi con le dediche e richieste. Intanto vado a salutare l'amico e fratellone Luca Vitali, eccolo qua, buongiorno Nicola e i tuoi radio telespettatori. Non ti sbagliare Luca, mi raccomando, non scrivere qualcosa di diverso. Fiorenza, buongiorno Nicola, un buon martedì a tutti. Bene, 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 poi vedo un messaggio che però non riesco a mandare in sovraimpressione qui nel nostro computer, vedo un messaggio grande Nicola da Saverio Marchese e voi direte, e sarà un parente, ebbene sì, è il cugino di mio papà che si trova mica qua in Italia, in Brasile. Ciao Saverio e tanti auguroni perché ho visto che sei diventato nonno, questo mi fa molto piacere. Auguroni, chissà, chissà che un domani con la mia orchestra arrivo a suonare in Brasile. Pepe, 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 magari, magari. Andiamo ancora in musica, intanto ci accontentiamo di Marrakesh, eccola qua che arriva e la voglio dedicare alla mamma Bruna. La mamma Bruna insieme al nostro Luca ha già prenotato per la mangiata di pesce del 27 di febbraio, ma tra poco vediamo perché sono pronto con la slide e così vi posso anche far gola ancora di più. Vamos! Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Dominzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, mare mare, stella del nord, un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musiche parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nemash Live, contattaci al 393 1912 091. E voilà, siamo rientrati e neanche farla apposta, io metto su Marrakesh, Luca avvisa la mamma e la mamma si collega alla trasmissione. Ciao Bruna, un bacio. E arrivano messaggi, questo mi fa molto piacere, arriva Perla Grigio che dice Buongiorno da una soleggiata macerata, oggi un cielo azzurro meraviglioso, una passeggiata nel verde con la vostra musica. Oh che belle, che belle parole. Mentre invece Gianni non va a passeggiare perché dice Ciao Nicola, buongiorno e buona giornata a tutti gli ascoltatori, ho incominciato a fare i lavori di casa. Il ferro da stiro viaggia a manetta, una canzone è quella che vuoi. Ma certo caro che ti accontento, è da un po' che non mandiamo in onda splendida. Adesso tra poco ti accontento, anzi facciamo una cosa, vado subito a parlarvi dell'appuntamento di sabato sera perché con il nostro trio, io e Nicola e Maio, saremo alla Polivalente di Duzzara, provincia di Reggio Emilia sabato 12 febbraio ci troverete con l'ospite Mauro Levrini. Prenotazione al 348-7478-474 oppure 328-9269-829. Accesso con Green Pass, che ancora non ho capito se ci vuole il Super Green Pass o Green Pass. Comunque voi portatelo rafforzato, se non sbaglio, che dovrebbe essere il Super Green Pass. Andiamo ad accontentare. Intanto ho preparato un mix country di Monica E. Che canta insieme a Erika Santiago. Subito dopo, dai, una collegata all'altra, arriva splendida. Eccola qua che ti accontento, caro Gianni. Rimango così, dai, come nel video, avevo la stessa giacca quando l'ho girato. Che messaggio mi ha mandato il nostro Gianni? Mi dice grazie, mi fai pensare intensamente con questa canzone, sarà vero? Eh beh sì, la donna è splendida. E purtroppo delle volte si sentono tante brutte cose, ahimè. Allora, cari amici, sono pronto, sono pronto per ricordarvi, per ricordarvi del 27 di febbraio. Guardate un po' la nostra slide in sovraimpressione, dove si va per un bel pranzo di pesce in Riviera Romagnola. Saremo al frontemare, nella nuova sala, ragazzi, nel nuovo ristorante, che noi dovevamo veramente andarci a maggio del 2020. Poi dopo, per causa pandemia, abbiamo dovuto annullare. Comunque, tutto compreso a 70 euro per informazioni e prenotazioni. Agenzia Viaggi, Portofranco di Sant'Ilario Denza, 0522 9020 54 9020 19 oppure Parma 0521 06 14 12. Affrettatevi perché siamo già veramente in tanti e questo ci fa molto piacere. Non saremo soli, le sorprese le vedrete poi là, assolutamente. Tanti ospiti musicali. E questo è il menù. Come preparatevi perché vi viene l'acquolina in bocca, secondo me. Antipasti misti di pesce caldi e freddi, insalata di mare, fantasia con seppie e verdurine, insalatina di mare con patate, salmone fresco marinato, catalana mista, scampetti, crostacei, sardoncini, beh, di tutto di più. Poi i primi piatti, ravioli di branzino, strozzapretti al profumo di mare, risotto classico alla pescatora, sorbetta al limone, poi i secondi piatti, spiedini di pesce, gamberi e galemare, frittura mista di pesce. Contorni misti, acqua, vino, caffè, digestivo, di tutto di più, ragazzi, compreso il pullman, 70 euro a persona. Affrettatevi! Hai visto che ha cantato Monica, ho cantato io, e facciamo suonare anche il nostro Maio, che sarà presente con noi, proprio sabato sera, a Luzzara, con la serata ospite Mauro Levrini. Il pastore solitario. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Dominzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia, telefono 0522 672392, oppure numero verde 800 911 770. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, mare mare, stella del nord, un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni, telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Neemash Live, contattaci al 393 1912 091. Rieccoci qui, che bello comunque ascoltare ragazzi il suono di tutta l'orchestra. È un'emozione. Intanto posso dirvi che è arrivata la prima richiesta di una festa estiva, questo mi fa molto piacere, perché quando arriva un messaggio oppure una chiamata dicono sei libero a luglio? Oh che bello! Comunque il 2 di luglio ci troverete con l'orchestra alla festa nel campo di Ramiola, provincia di Parma, vicino Fornovo, all'uscita dell'autostrada. Veramente sarà un'emozione tornare nelle feste estive. Oh, noi l'abbiamo fissata, poi dopo speriamo che tutto vada per il meglio, ma io penso proprio di sì. E vado a salutare qualche amico che sta scrivendo, è arrivata la nostra Vanna. Buongiorno Vanna, buongiornissimo caro a tutti gli amici Nima e Nonna. E poi arriva anche la nostra Roberta. Buongiorno carissimo Nicola, buon martedì e grazie per la stupenda musica, allegria. Ti abbracciamo forte forte Robby e Ricchi. E la stessa Perla Grigio che prima ci ha salutato dice senti un po' un toccasana per la psiche, grandi. Dai, dai che ripartiamo e sarà soltanto un brutto incubo. Arrivati a questo punto, giunti a questo punto, punti a questo giunto, di solito il martedì alle ore 11.40 c'è il collegamento con l'amica Ornella Colli per l'aggiornamento sulle news locali sull'Apenino Reggiano in collaborazione con Redacon. Ma oggi non ci sarà, anzi arrivano dei saluti perché la cara Ornella se n'è andata a Dubai, è in vacanza a Dubai per un tour di Dubai. E proprio da lì ci manda questo videoclip di saluti. A te la linea Ornella, sempre in giro la va, sempre in giro. Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, intanto saluto Nicola e soprattutto saluto tutte le persone che seguono il Nima Show che naturalmente sono tantissime. Mi trovo qua con due mie amiche, siamo, indovinate dove, a Dubai in mezzo al deserto. Abbiamo fatto una bellissima escursione oggi, devo dire anche un po' spaventosa, almeno io mi sono un po' spaventata, perché sono più intrepida. E adesso ci troviamo in questa Oasis dove passeremo la serata e domani andiamo invece all'Expo. Allora, ci teniamo tantissimo a salutarvi tutti, noi e anche il resto del gruppo che non è qua. Sono in giro con i cammelli. Saluto quindi Nicola, saluto tutte le persone del Nima Show. Venite a Dubai perché ne vale veramente la pena. Ciao a tutti. Ciao. Chissà, chissà un domani io nel deserto ci sono stato, eravamo a Marsalam e secondo me ha girato un po' troppo forte con le jeep. Vero? Vero, cara Ornella. Allora, buon proseguimento di vacanza. La settimana prossima avremo l'aggiornamento con le notizie locali da Redacon e Radio Nova. Andiamo avanti e io voglio contraccambiare a questi saluti. Con tanti baci ce la canta Maurizio Medeo e arriva ancora baci per Ornella Coli. Bacissimi, bacissimi alla nostra Ornella, bacissimi a tutti gli amici che ci stanno seguendo, vi ha salutato anche lei. Ne approfittiamo, dai. Allora ragazzi, vi parlavo di cose strane. Io non vorrei essere nei panni di quel imprenditore che questa mattina si è visto arrivare questa bolletta. Sapete che tutti i telegiornali, le varie testate parlano di caro bollette. E guardate un po', una azienda di Verona si è vista recapitare questa bolletta che riporta, guardate un po', dal gennaio 2021 un importo di 51.900 euro, ovviamente, essendo un'azienda che produce, non so che cosa, ha una bolletta molto cara. Però guardate la stessa bolletta riferita a gennaio 2022. Da 51, quasi 52.000 euro si arriva a 235.000 euro. Adesso io dico, ogni due mesi arriva una bolletta del genere. Va bene che fatturerà e avranno tante entrate, per l'amore di Dio. Ma mi sembra un po' esagerato, quattro volte tanto. E sentivo che dovranno arrivare gli aiuti dall'Europa, per quanto riguarda il caro bollette, vedremo se basteranno. Dovrebbero arrivare 40 miliardi di euro, ce ne vogliono 37, sembra che ci stiamo proprio dentro, ma non saranno sufficienti. Io boh, non so dove stiamo andando a finire, non lo so. Boh, ci andiamo ad ascoltare una bella canzone di un amico, un collega che in passato aveva un'orchestra, il mitico Manuel Comelli, che da oltre dieci anni a questa parte si è dedicato alla vita da solista, facendo anche il trasformista, perché nei suoi spettacoli fa anche delle imitazioni. Qui era stato ospite al Niemann Show Live, quando il Niemann Show era registrato per una emittente televisiva locale, però il video è rimasto. Ci ascoltiamo Manuel Comelli con Careless Whisper. Boh, che bella. Sempre bravo l'amico Manuel Comelli. Ricordatevi ragazzi che registrò, era cantato dal vivo, registrò direttamente qui nei nostri studi. C'è un messaggio di Gianni, sono contento Gianni, sono ancora qui, allora vieni nel mio paese il 2 di luglio. Bene, spero che il mio ginocchio destro si metta a posto. Dai, c'hai un po' di tempo, l'ho detto apposta, così ti prepari e il 2 di luglio ci troveremo lì nel campo sportivo di Ramiola. Non vedo l'ora, speriamo che ce ne siano altre anche prima, perché dobbiamo recuperare tutto il tempo perso. La felicità di andare nelle feste, di andare tranquillamente a mangiarsi qualcosa e a farsi un ballo, senza dover guardare, beh, quello non c'è la mascherina, beh, quello, beh, quello, no. Quella sera lì si stava bene Gianni, tu dirai ma quale? E' quella dove eravamo insieme a Cella di Noceto a gustarci la serata di Pietro Galassi. Ed era proprio lì che ho registrato questa canzone fantastica. Una bella interpretazione dell'orchestra Pietro Galassi nella Sera dei Miracoli di Lucio Dalla. Eccola qua. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Dominzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia, telefono 0522 672392, oppure numero verde 800 911 770. E' stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, mare mare, stella del nord, un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nemash Live, contattaci al 393 1912 091. E quella la libertà, sì, la libertà che vogliamo conquistare. E sembra che dal venerdì 11 tutto sia possibile. Speriamo, speriamo. Saluto il mio fratellone, ciao Luca, continua a guardare, mi raccomando. Voglio ricordarvi ancora una volta l'appuntamento di sabato. Sabato 12 febbraio saremo appunto al Polivalente di Luzzara, Reggio Emilia, nella bassa reggiana. Il nostro trio, gruppo Nicola Marchese, ma saremo in trio, Nicola Marchese e Monica Emaio, con ospite Mauro Levrini. Prenotazione al 348 7478 474, oppure quello che vedete in sovraimpressione, 328 9269 829. Mi raccomando, ci vuole il Green Pass. Andiamo ad ascoltare un brano di Mauro Levrini, guardate, vediamo cosa... Anzi, aspettate un attimo che vado a prendere una bella canzone che a me piace tanto, ma dobbiamo andare ad attingere dagli archivi della trasmissione Felice Serata, perché mi ricordo che era venuto ospite proprio lì l'amico Mauro Levrini. Eccolo qua. Oh, questa è fantastica, ragazzi. A me piace da morire. Guerriero, tutta per voi. E voilào, altro brano suonato, però strumentale, dell'orchestra Luca Bergamini, che era stata ospite anche in questa trasmissione, chissà, chissà, un domani, magari. Era molto bello, perché arrivava il pubblico da Reggio Emilia e da Parma, veniva proprio a passare una bella serata in compagnia, si ballava, intanto gli ospiti e l'orchestra si esibivano e si registrava la trasmissione. Ciao Nicola, ti ricordi mandarmi la canzone di Federica? Ma certo, ma hai fatto bene a ricordarmelo, perché sono un po' stordito delle volte, non ti preoccupare, però vado subito a prenderla. E nel frattempo volevo salutare anche l'amico Franco, che diceva bella la canzone di Mauro Levrini, guerriero, è fantastica quella canzone. E speriamo di vederci presto, caro Franco, dai, facci un pensierino per il 27 di febbraio, così ci troviamo a metà strada a Rimini a mangiare il pesce e a stare in compagnia. Andiamo con questa bella canzone, guardate un po' cosa vado a prendere, un bacio a te, Federica Cocco, tutto per Mara di Prato e anche tutti gli altri fans di Federica Cocco. Federica, grande Federica, dedicatissima all'amica Mara di Prato e ai fan di Federica. Franco mi dice forse faremo un pensierino, mi fa molto, ma molto piacere. Eccolo qua, la slide ancora, ragazzi, per questa domenica a fronte mare di Rimini, pranzo di pesce in riviera Romagnola. Tutto compreso 70 euro, ovviamente c'è uno sconto degli amici che ci raggiungeranno con il proprio mezzo, perché comunque non usufruiranno del pool, ma comunque per informazioni chiamate l'Agenzia Viaggi Portofranco, quella di Sant'Ilario, la filiale di Sant'Ilario, 0522 90254 902019, oppure Parma 0521 06 1412. Ok, un menù ricchissimo, non sto lì ad elencarlo perché se no ci vuole solo mezz'ora di trasmissione, mangeremo, canteremo, balleremo perché si potrà tranquillamente. Sono ottimista, dai. Oasi, Andrea Bonifazio, la voglio dedicare proprio a Franco e a Fortuna. Dai ragazzi, vi aspettiamo, ci siamo visti che era novembre, dicembre, gennaio, febbraio, ah, tre mesi, dai, una ogni tre mesi ci può stare, dai, vai. Eccoci qua, cari amici, dopo Oasi, dobbiamo salutarci, è arrivato il momento di salutarci, che dire, io vi aspetto domani, una bella puntata vi aspetta, dovrebbe esserci un ospite in studio, dovrebbe, dico, perché ancora deve confermare, ma sicuramente ci sarà, con tante belle canzoni live, vi ricordate, dovrebbe tornare l'amico Daniele Cusmano, che ce le canterà proprio qui in diretta. È arrivato il momento di salutarci, domani, stesso orario, alle ore 11, saranno qui con il Nivan Show Live. Bye bye, ci lasciamo con Cichitita, orchestra Daniele Cordani.